buongiorno continuiamo a valutare come si comporta la carica elettrica la prima domanda che ci facciamo se tutti i materiali hanno uno stesso comportamento ci si possono elettrizzare tutti nello stesso modo ma non direi i conduttori non trattengono gli elettroni cioè i loro elettroni sono poco affascinati dal nucleo e preferirebbero andare in case altrui magari se sono invogliati a farlo tipicamente il rame i nostri fili di casa elettrici sono di rame l'oro molto bene un po caro direi ma anche il corpo umano corpo umano è un conduttore attraverso i nervi attraverso tutti i liquidi che lui ha nel proprio soprattutto in questa zona nel cervellino è un ottimo conduttore e poi ci sono gli isolanti cioè quei materiali i cui elettroni non vogliono abbandonare il proprio orbitale e rimangono legati al proprio nucleo quindi non sono dei buoni conduttori la ceramica la plastica infatti i nostri fili di rame dentro ma fuori plastica così non ci prendiamo la scossa la gomma sia gli isolanti che i conduttori possono essere elettrizzati per sto finito questo sì assolutamente sì però uno i conduttori lasciano poi andare via gli elettroni invece i cosiddetti di elettrici o gli isolanti non lasciano andare via gli elettroni l'unico modo che hai per elettrizzare un corpo è per strofinio punto di domanda no ci sono altri sistemi per esempio se un conduttore entra in contatto con un altro conduttore gli trasferisce degli elettroni lo sappiamo benissimo quando chiamiamo un elettricista lui prende questo filo lo attorciglia e un filo passa gli elettroni ad un altro filo perché sono rame contro rame quindi una carica trasferita poi ha lo stesso segno della sorgente iniziale se trasferiamo dei più la nuova nuovo conduttore avrà sempre un segno più e quindi si raggiunge un equilibrio entrambi i corpi che vengono a contatto resteranno elettrizzati guardiamo questo signore si prende delle cariche negative tutte quante vanno su di lui e addirittura vanno verso un nuovo conduttore che la terra questo non è un bel momento si sente un po di corrente che scorre dentro le nostre gambe allora abbiamo un conduttore per esempio un pezzo di rame tenuto da un manico isolante così non ci prendiamo le cariche che scorrono da noi questo non succederà se il manico isolante qui abbiamo un altro conduttore attaccato al soffitto con un manico isolante quindi le cariche non andranno al soffitto perché di qua non passano quando tocchiamo i due conduttori alcune cariche si vanno a posizionare sul nuovo conduttore che prima non ne aveva qui lui ne aveva e lui non ne aveva adesso ne hanno tutti e due quindi c'è un trasferimento possiamo suddividere la carica per esempio in modo che vogliamo e se abbiamo una carica q in un corpo e due corpi uno e due che non sono elettrizzati quando li mettiamo in contatto si raggiunge quello che si chiama l'equilibrio quindi di sei cariche diventano due di qua due di qua e due di qua come possiamo vedere poi possiamo separare le cariche e ciascuna avrà due cariche due cariche e due cariche dividiamo per tre perché adesso i giorgenti sono tre quello che avevamo all'inizio questo per esempio è una diminuzione che passa da q a q terzi q fratto 3 è un modo di suddividere le cariche avessimo avuto una nuova particella avremmo fatto q fratto 4 eccetera poi possiamo prendere questa q 3 la vediamo dividiamo per altri tre possiamo fare quello che vogliamo però c'è questo questa proprietà la carica totale si conserva sempre ok buona giornata